Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì a tutti voi cari amici, bentornati o benvenuti sul canale. Come state? Spero che stiate bene, noi tutto bene. Ho appena vissuto un'avventura perché Lucia è in gita a Roma, ha organizzato che soldi portare, ma ne ha portati probabilmente troppo pochi, in più le han detto che c'erano delle spese in contanti da pagare e non erano stati avvisati prima, quindi si è ritrovata già al primo giorno praticamente quasi senza soldi. Quindi ho dovuto fare la ricarica a una carta prepagata di una sua compagna, ma non vi sto a raccontare, ma è da stamattina che sto in ballo con questa ricarica. Finalmente sono riuscita a ricaricare e adesso Lucia è felice e contenta a Roma, in quel di Roma. Programma stupendo, andranno a Cinecittà, lei sta facendo la quarta liceo artistico indirizzo scenografia, andranno a Cinecittà dove parteciperanno a dei laboratori di scenografia per vedere come si costruisce una scenografia, incontreranno dei registri, dei registi andranno al parco di Cinecittà, quindi comunque un'esperienza bellissima, beata lei che riesce a farla, e quindi niente. Oggi siamo insieme per fare la quarta puntata, sì, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, quarta puntata in compagnia della mia carissima amica Stefi di Parvana Stefania, il canale Parvana Stefania, su questa esperienza olfattiva che ci fa scegliere dei profumi in ogni mese. Siamo arrivati quasi alla fine perché abbiamo avuto un po' di problemi organizzativi sia io che la Stefi, ma siamo ancora in tempo e così abbiamo anche potuto goderci un po' di più i profumi che sono stati i protagonisti di questo mese di marzo. Questo mese di marzo è un mese pazzerello, caldo, freddo, le giornate sicuramente si sono allungate, poi adesso con il cambio dell'ora che mi rende completamente sbalestrata, alla sera sicuramente c'è più chiaro, e quindi le giornate sembrano più lunghe, anche se non lo sono, e quindi ho usato in questo mese dei profumi che hanno ancora magari dei sentori invernali, ma verso la fine proprio si esplode in una primavera meravigliosa. Io mi sono scritta come al solito i miei appunti, sapete che io sono molto di pancia nel raccontare i profumi perché più che le note di cui io non sono un'esperta e non ho un naso così preciso, proprio i profumi mi regalano delle emozioni, delle esperienze, dei ricordi, delle immagini, ed è quello che mi piacerebbe così raccontare a voi. Ringrazio ovviamente la Stefi per questa collaborazione, che non è una collaborazione ma è una compagnia, è una rubrica che facciamo sempre davvero con molto molto piacere. Rimango sempre più stupita dalle tante cose che abbiamo in comune e che scopriamo nei vari video e che poi ci scriviamo in privato dicendo non è possibile, siamo due gemelle separate alla nascita, perché è effettivamente così e niente dai, cominciamo subito. Se mi vedete abbassare lo sguardo è perché mi sono presa tutti i miei appunti precisi che poi sicuramente non riuscirò a guardare, ma per quanto riguarda magari le note olfattive e comunque gli accordi principali sono quelli che ho trovato su Fragrantica e che mi sembravano quelli più completi e che assomigliassero a quello che io sentivo. Ebbene, ovviamente vi lascerò il link e le informazioni del canale nell'info, il link a tutti i profumi che vi racconterò, in modo che anche voi possiate vedere anche i costi, dove li potete reperire, eccetera, eccetera. Allora, primo profumo, partiamo da un profumo meraviglioso, tutti sono meravigliosi, ma questo mi ha colpito particolarmente, profumo comprato al buio, non so neanche perché l'ho comprato, devo dirvi la verità, perché comunque è un profumo descritto come un profumo maschile, ma io me ne sono innamorata e di questo profumo, devo dire, ne ho anche abusato parecchio. Allora, il profumo si chiama Rahaki, 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 non lo so, di Swiss Arabian, non so come si dica, questa è la sua confezione di cartone, tutta colorata e verde, e l'interno è questo. Come vedete io ne ho usato parecchio, tenendo conto che non è l'unico profumo che ho usato. Allora, Rahaki di Swiss Arabian è una fraganza del gruppo aromatico speziato da uomo, non l'avrei mai detto, ve lo giuro. Le note di testa sono lavanda, limone, menta e zenzero, le note di cuore sono mela, cardamomo, ginepro, cardamomo, sì giusto, ginepro e geranio, le note di base sono fava tonka, amber, wood e vetiver. Accordi principali, aromatico, speziato caldo, fruttato, speziato fresco, ambrato, con profumo di lavanda, legnoso, vanigliato, un profumo verde. Allora, come prima descrizione, io lo descriverei come un profumo fresco. Mamma, già solo lo spruzzare? Meraviglioso. Allora, appena lo si spruzza, quello che io avverto sono le note della menta e della mela verde. All'inizio si sentono proprio, sono molto molto intense, è un profumo intensissimo. Rendono queste due note un profumo all'inizio fresco e frezzante. La menta gli dà proprio quella, quel tocco fresco, quel tocco energizzante che, secondo me, lo rendono adatto perfettamente ad una donna. Io non mi sono neanche accorta quando l'ho comprato, pensate voi, che fosse un profumo, tra virgolette, indicato per uomo. Mamma mia. Poi, si avverte tantissimo pian piano anche il limone, lo zenzero e quindi è un profumo frizzante, energico, un profumo quasi non da dopo barba, perché poi ha questa mela che lo rende croccante, una mela, per me è una mela verde, di quelle che, quando le addentate, scroncevano proprio quel rumore bello secco, una mela zuccherina, ma molto acidula, un profumo per me meraviglioso. Poi, pian pianino, dopo, diciamo, dopo la prima oretta, si scalda, si scalda ed escono piano piano anche le altre note, quelle un po' più, un po' più calde, quelle un po' più speziate, quelle un po' più legnose, si percepisce sicuramente il profumo del ginepro, del geranio, che è una nota che a me piace tantissimo, e del cardamomo e quindi gli danno un po' quella rotondità, quella anche morbidezza, lo rendono sicuramente intenso e speziato e qui posso capire che effettivamente possa, tra virgolette, essere più indicato o comunque nato come profumo da uomo, ma sapete che per me non c'è sesso né per i profumi né per nulla nella vita e è meraviglioso per me, per una donna. è un profumo che alla fine ha anche quel sentore legnoso, un po' quasi cuoiato anche se io non sento il cuoio e una nota che non ho percepito ma che probabilmente con il mix di note come quello della mela e come quello della menta a me sembra di percepire un profumo di basilico. un profumo di basilico fresco appena colto verde bagnato dalla rugiada un profumo davvero meraviglioso 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 è un profumo che ha su di me una durata giornaliera io lo spruzzo abbondantemente alla mattina e lo sento tranquillamente fino a sera sugli indumenti dura fino a quando non li lavate non riesco neanche a chiuderlo perché ha un tappo particolare vedete ha un tappo sagomato eccolo qui lascia una scia persistente me l'hanno fatto notare i miei familiari soprattutto Mattia che ha un naso molto fino e gli piacciono i profumi e mi ha detto mamma mia ma è troppo speziato questo profumo è quasi balsamico mamma ne hai messo troppo vabbè probabilmente avrà anche ragione perché io veramente di questo profumo sono quasi drogata mi piace davvero tantissimo lo metto spessissimo infatti vedete che ne ho spruzzato abbondantemente come immagine sapete che io collego sempre il profumo ad un'immagine mi ricorda una passeggiata in un bosco dopo un temporale primaverile di questi periodi i temporali così quasi inaspettati ci colgono a volte di sorpresa durano un quarto d'ora venti minuti e poi il cielo ritorna ancora sereno stiamo passeggiando nel bosco ci sono le fronde degli alberi intorno a noi che regalano un po' quell'intimità quel buio quel verde bello acceso come il verde di questa bottiglietta l'aria è molto fresca e frizzante e il bosco pian piano si illumina proprio con lo squarciarsi delle nuvole ed il sole che penetra in questo bosco siamo vicini ad una cascata e quindi anche se non sentiamo le goccioline di acqua percepiamo la freschezza dell'umidità della cascata che scende e che fa quella specie di spuma soprattutto se è una cascata di montagna come quelle che io ho la fortuna di avere vicino nelle mie montagne e che regalano quella freschezza bellissima quasi come se ci dissetassimo anche se non beviamo a a quest'acqua no e e poi pian piano c'è il sottobosco con questo muschio con questi aghi di pino che sono depositati a terra e c'è quel profumo che regala proprio la pioggia e il calore del sole quando sta asciugando il muschio quando sta asciugando l'erba e quindi c'è quell'umidità che fa evaporare quel profumo di sottobosco così bello e così intenso è davvero un profumo veramente veramente meraviglioso che io vi consiglio io l'ho comprato su notino scusate non ricordo quanto l'ho pagato poi vi lascio sotto il link ma secondo me se vi piacciono le i profumi con queste note molto fresche e se vogliamo leggermente maschili in confronto magari agli altri profumi che vi presenterò questo è assolutamente da avere è un signor profumo ed è meraviglioso sono contentissima di aver fatto questo acquisto al buio passiamo ora a una fragranza che è totalmente diversa questa me la sono regalata io a Natale netta ripreziosi è la collezione camellia d'inverno di bottega verde questa è la sua confezione e qui abbiamo il flacone che mi piace tantissimo in questo rosso il rosso è uno dei miei colori preferiti allora qui passiamo proprio da un estremo all'altro del profumo camellia d'inverno di bottega verde è una fragranza del gruppo floreale da donna le note di testa sono frutti rossi mandarino e limone le note di cuore sono camellia caramello e fiore d'arancio le note di base sono paciuli ambra e sandalo gli accordi principali sono talcato legnoso floreale caramellato agrumato dolce fruttato floreale bianco paciuli speziato caldo se dovessi definire questo profumo con un aggettivo lo definirei un profumo poetico e questo ce lo spruzziamo dall'altra parte è un profumo caldo per me avvolgente delicato e talcato con questa fragranza siamo ancora in quel marzo pazzerello che richiama all'inverno non è un profumo però invadente non è ostentato si può definire così è un profumo molto molto dolce che regala quasi un'atmosfera di intimità io non amo tantissimo i profumi dolci li amavo molto di più quando ero giovane ma questo mi ha toccato le corde del cuore questo è è veramente un profumo poetico la sua durata è moderata e anche la scia dura sulle tre ore non di più se poi lo volete risentire lo rispruzzate altrimenti diventa proprio un profumo intimo che si fonde con la vostra pelle che regala alla vostra pelle quel tocco cipriato quel tocco talcato dei profumi quasi di una volta delle toilette delle nostre nonne delle nostre mamme questo lo apprezzo di giorno ma lo amo tantissimo dopo aver fatto la doccia alla sera vi da quella sensazione vi regala quella sensazione di pulizia di borotalco di cipria che così si diffonde nella vostra stanza è un profumo da coccola un profumo dove io sento la nota caramellata dello zucchero e volendo anche della vaniglia un profumo che ricorda una torta anche se ha poi quel mix floreale che diciamo lo rende un profumo secondo me non troppo gourmand e l'immagine che io ho davvero abbinato a questo profumo e l'ho abbinata anche ad un romanzo che ho appena finito di leggere un romanzo natalizio che è davvero molto carino che poi vi farò vedere è l'immagine di una donna che ha finito la sua giornata lavorativa fuori o dentro casa va a farsi una doccia si mette comoda con una tuta con una vestaglia in una cucina di una casa vittoriana che ha la sua età che ha la sua storia una cucina dove ci sono dei pavimenti di sasso e una penisola con un tavolo di legno molto consumato segnato dagli anni segnato dalle tante ricette che si sono cucinate su questo tavolo e con una musica di sottofondo una musica melodica leggera molto molto lieve qualche candela accesa e sulla penisola ha della farina della vaniglia una marmellata di frutti rossi e questa donna vuole preparare per la sua famiglia per i suoi ospiti una torta di quelle ricoperte che hanno il guscio e che poi hanno dei buchetti che servono per far uscire il vapore creato nella cottura dalla marmellata altrimenti si inumidisce troppo la pasta e c'è quel profumo così avvolgente magari un po' non so che aggettivo usare non pizzicorino quel profumo dei frutti rossi che non è proprio troppo dolce alla mia amica Antonella per esempio i frutti rossi non piacciono e quindi mi ricordo lei quando quando parliamo di frutti rossi quel profumo un po' aspro ecco magari dei ribes rossi che insieme alla dolcezza della vaniglia dello zucchero vanigliato o dello zucchero a velo creano quel contrasto nel palato che è veramente una cosa meravigliosa ecco legato a questo profumo ho questa immagine di questa torta meravigliosa racchiusa in un guscio di pasta frolla con all'interno un un ripieno un po' aspro dolce rosso molto morbido che quando poi si addinta è davvero una cosa spettacolare è per me un profumo davvero davvero meraviglioso vedete anche qui quanto ne ho consumato e l'ho comprato da Natale e non è l'unico profumo che posseggo bello 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 una pura poesia assolutamente io questo ve lo consiglio come tutti gli altri ma veniamo ora al terzo profumo terzo profumo vaniglia e zenzero di l'erbolario anche questo è un profumo che ho comprato su un sito internet ma l'avevo annusato in negozio poi avevo già comprato altre cose quindi l'ho lasciato lì ma poi me lo sono riportato a casa allora spruzziamolo e poi vi racconto mamma mia allora è una fragranza del gruppo ambrato vanigliato da donna tranquillamente unisex assolutamente assolutamente unisex le note di testa sono zenzero e limone le note di cuore sono vetiver e paciuli le note di base sono vaniglia benzoino del siam gli accordi principali sono speziato caldo vanigliato agrumato fresco aromatico ambrato talcato legnoso e balsamico ora dirvi che io sento tutte queste cose assolutamente no però questo al primo spruzzo è zenzero puro vi fa quasi starnutire che buono ragazzi io amo molto lo zenzero fresco in cucina mi piace metterlo sia sul pesce sia sulle carni che nei dolci mi piace tantissimo perché regala quella frizzantezza al piatto lo rende piccantino è per me una spezia una radice veramente buonissima ecco al primo spruzzo vi pizzica anche il naso perché lo zenzero si sente veramente cioè proprio la nota quasi principale che comunque rimane ma dopo poco esce esplode questo profumo di limone un profumo di limone fresco un profumo di buccia di limone ma non un limone maturo un limone che ha la buccia ancora verde che sta finendo di maturare al sole adesso ho visto per esempio nel giardino della mia vicina che la sua pianta di limoni comincia un attimino a colorarsi è un limone quasi verde che ha quella scorza un po' amarognola e secondo me questo limone regala una spinta di freschezza a questo a questo profumo è sicuramente uno speziato agrumato di tutto rispetto mi piace tantissimo anche se ci sono davvero poche note magari in confronto a tanti altri profumi fragranza unisex ve l'ho assolutamente già detto perché perché è troppo buona la sua durata è sulla mia pelle di 4-5 ore io lo spruzzo la mattina quando ritorno dall'ufficio ce l'ho ancora e addirittura se risalgo in macchina lo risento sapete che io comunque abbondo sempre alla mattina quasi io poi non lo sento quasi più il profumo quando me lo spruzzo ma poi quando scendo le scale lascio lascio la scilla è un profumo che regala freschezza che regala briosità che regala allegria che regala energia perché il limone e lo zenzero sono per me due note molto frizzanti molto allegre molto fresche e e quindi è un profumo che ci addentra bene a questa primavera che ormai è cominciata dove ci sono le giornate almeno qui da noi alcuni pomeriggi arrivano addirittura 21 gradi però l'aria non è calda come quella di maggio di giugno dove comincia a buttare là qualche passo l'estate cioè è ancora marzo quindi se verso le 5 5 e mezza 6 comunque il sole comincia a calare l'aria diventa fredda ecco questo è un profumo sicuramente fresco che regala briosità ma un profumo adatto a questa primavera che è appena appena iniziata è un profumo gioioso mi regala allegria e io lo spruzzo proprio per svegliarmi alla mattina è un profumo che definirei energico che regala energia poi pian piano il limone e lo zenzero si sentono ancora ma si riescono secondo me anche a percepire leggermente non in maniera così preponderante la nota della vaniglia e la nota del paciuli che alla fine lo rendono così un po' più corposino un po' più rotondo anche se le due note prevalenti si sentono e si sentono fino alla fine l'immagine che mi sono così vista davanti agli occhi spruzzandomi più volte questo profumo è di una tipica giornata di marzo fresca con l'aria frezzante che ti punge ancora sul viso e che ti fa comunque indossare una giacca un po' più pesantina e non soltanto una felpa con un cielo limpido azzurro in riva al mare un mare agitato dal vento che ha delle onde abbastanza alte e che ci regala questi spruzzi che ci bagnano il viso se siamo magari sul bagno asciuga il sole poi scende e ci vogliamo riscaldare in una sala da tè o comunque in un bistro che troviamo magari mi vengono in mente quei piccoli bistro dove ci sono sul mare della Francia io me lo immagino così dove quest'anno vorrei andare e a questo punto ci possiamo scaldare all'interno di questo bistro con una bella tisana una tisana limone e zenzero magari e con dei biscottini che accompagnano la nostra la nostra tisana dei biscotti magari al limone con dello zenzero che sono davvero buonissimi e sono ricoperti da uno zucchero vanigliato e anche se la giornata comunque al termine e anche se sta finendo questo profumo di limone e zenzero ci regala allegria ci regala comunque energia per continuare la nostra serata questa è un po' l'immagine che mi regala questo profumo e anche questo mi ha davvero colpito è un profumo veramente veramente meraviglioso e anche questo ovviamente ve lo consiglio ultimo ultimo profumo perché ne ho scelti solo quattro è questo apple juice di zara penso sia un profumo in collezione permanente anche se non sono molto esperta dei profumi di zara li sto scoprendo soltanto ora e ne escono sempre di nuovi e li vorrei comprare veramente tutti una scatola di cartone molto molto semplice e molto basica dove c'è questa meraviglia che dalla bocettina anche se ho visto che sono quasi tutte così mi ricolta un po' una mela rotondeggiante allora apple juice di zara è una fragranza del gruppo floreale fruttato da donna è stato lanciato nel 2012 quindi è un profumo che ha quasi 11 anni anzi 11 anni vediamo quando è stato creato le note di testa sono mela pompelmo e arancia le note di cuore sono rosa peonia violetta e gelsomino le note di base sono muschio sandalo e legno di cedro gli accordi principali sono fruttato fresco agrumato floreale verde talcato speziato fresco muschiato e legnoso ho ceduto i miei appunti questo profumo per me è una droga come il primo non ne posso fare a meno solo che questo siccome non ha una persistenza così intensa come quello di Swiss Arabian io questo me lo rispruzzo ma me lo rispruzzo anche 4-5 volte ma proprio per il piacere di sentire questo profumo allora spruzziamocelo qua dove l'è? ecco qua oh mamma mia quanto è buono questo profumo questo profumo è una ventata di freschezza di leggerezza di primavera qui la primavera esplode esplode nella maniera più bella giocosa allegra è un profumo giovane è un profumo sbarazzino mamma mia è fresco agrumato leggero spensierato un profumo verde secondo me è tutti questi aggettivi insieme che racchiudono proprio la leggerezza la spensieratezza la voglia di giocare non so come descriverlo le note preponderanti sono ovviamente quelle della frutta una mela anche qui una mela verde croccante acidula zuccherina fresca e insieme al pompelmo e al mandarino giusto mi ricordo più ragazzi pompelmo mela verde e arancia scusate non mandarino regalano proprio questo mix dissetante ecco un profumo dissetante questo mix di agrumi regala veramente una ariosità a questo profumo che io me lo rispruzzo perché è davvero troppo buono però appunto ha una persistenza sarà anche che il mio naso è abituato a delle potenze di profumi che lo rende anche comunque molto leggero non è assolutamente fastidioso è un profumo che potete portare in ufficio a scuola adatto secondo me alle ragazze giovani adatto a tutte le persone che lo vogliono portare però è sicuramente un profumo che su una ragazzina su un adolescente rappresenta proprio la bellezza della giovane età la bellezza della spensieratezza del buttarsi nel mondo dell'allegria di quando queste ragazzine si guardano negli occhi e ridono per nulla ecco un profumo davvero davvero bellissimo poi gli agrumi non spariscono ma pian piano lasciano un po' un tocco anche al profumo del muschio al profumo del lino di cedro un tocco leggermente legnoso e speziato ma comunque prevarica sempre questo mix fresco e leggiadro molto molto brioso ecco un profumo veramente allegro e gioioso bello 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 è un profumo che secondo me racchiude proprio la primavera lo sbocciare dei fiori i piccoli germogli che troviamo sulle piante che stanno rinascendo è una fragranza un po' birichina un po' gioiosa e che gli piace anche giocare gioca nascondino tra un raggio di sole e una nuvola è una ragazza giovane che corre spensierata in un prato con le margherite e i crocus che si nasconde dietro a un albero ricco di germogli e che con la sua risata così cristallina e fresca ci regala davvero un momento di felicità pura è un profumo per me veramente veramente stupendo adatto ad ogni età adatto a qualsiasi occasione veramente mi è piaciuto tantissimo e che altro dire mi sono piaciuti tutti e quattro questi profumi poi io pian piano dopo che li ho utilizzati nel mese vado un po' a rotazione quindi ne prendo altri 4 in modo da così poter spaziare nella mia vastissima collezione di profumi e che dire mi hanno regalato tanta gioia tutte queste tutte queste fragranze proprio nelle varie giornate di questo marzo pazzerello e chissà cosa ci regalerà invece il mese di aprile aprile dolce dormire dove io sto già dormendo adesso perché in questi giorni mi sento veramente stanca e spossata sono ancora un po' in letargo insomma devo pian piano uscire dal mio letargo e forse dovrei spruzzarmi un po' di più di apple juice in modo che rimango bella fresca bella allegra bella briosa e bella frezzante bene ho già parlato ho detto un sacco di stupidate ma non fa niente io mi sono divertita spero che vi siate divertiti anche voi come sempre vi ricordo che io sono soltanto un appassionata quindi quello che vi racconto sono le mie sensazioni le mie immagini quello che io sento non quello che tutti debbano sentire con i profumi ovviamente ogni naso ha una percezione più o meno profonda delle note e di quant'altro quindi il bello dei profumi è anche quello che ognuno ci sente quello che più lo caratterizza e quello che più gli piace ebbene ringrazio ancora la Stefi per questa opportunità di scambiarci sempre delle opinioni e dei consigli sui profumi perché poi noi ce le scambiamo anche off camera come si dice e ringrazio voi che mi avete seguito fino a qui se vi è piaciuto il video pollice in su se non vi è piaciuto vi saluto e me ne dispiaccio se volete iscrivervi al canale mi farebbe davvero molto molto piacere se volete attivare la campanella altrettanto facciamo un po' di pubblicità occulta che non è tanto occulta ogni tanto va bene fa bene anche fare quello e nulla io vi aspetto in un prossimo video e vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio ciao grazie e a presto ciao ciao ciao